signori buongiorno e bentornati sul canale del master care io sono il master care il vostro ospite su questo canale nello scorso video abbiamo visto qual è il primo dei problemi all'applicazione pratica del grado di sfida e nel primo video abbiamo detto che il grado di sfida è calcolato partendo dal presupposto che ci sia un gruppo formato da quattro elementi un personaggio da combattimento un personaggio abile un incantatore arcano e un incantatore divino nel video precedente abbiamo visto come si possono gestire le cose quando il gruppo non è formato da quattro elementi però rimane un altro problema da prendere in considerazione ovvero chi l'ha mai visto un gruppo standard questo è probabilmente il più sentito problema per quanto riguarda il bilanciamento del grado di sfida tutti i mostri che troverete sui bestiari o all'interno delle api partono dal presupposto che il party sia composto e possa soddisfare i quattro ruoli fondamentali presenti all'interno il d20 system un incantatore arcano che si preoccupi di infliggere danni ad area e di fare controllo del campo di battaglia questo normalmente è il ruolo che viene ricoperto dal mago un incantatore divino che potenzi il party lo curi rimuove effetti negativi questo è normalmente il ruolo del chierico un personaggio abile che sia in grado di rimuovere o agire gli ostacoli fare da scout per il gruppo e anche dare una mano in combattimento questo è quello che normalmente dovrebbe fare il ladro e per certi versi anche il monaco un personaggio da combattimento che sia in grado di ingaggiare i nemici in mischia e fare da muro tra questi e il resto del party questo è normalmente il compito del guerriero o del barbaro idealmente ogni party all'interno del d20 system dovrebbe contenere questi quattro ruoli fondamentali e quando i vostri personaggi quando i vostri giocatori che hanno i loro personaggi dovreste incoraggiarli a ricoprire questi ruoli al meglio le loro possibilità ovviamente i giocatori non devono per forza giocare un mago un guerriero un ladro un chierico ci sono le classi che fanno da ibrido tra queste ad esempio un ranger può essere sia un personaggio abile che un personaggio a mischia un paladino è sia un personaggio a combattimento che un incantatore divino un druido a seconda di come viene montato potrebbe ricoprire uno qualsiasi dei ruoli degli altri inoltre ovviamente i giocatori devono essere liberi di poter giocare quello che vogliono se nessuno nel party vuole giocare il ladro non è che per forza qualcuno deve essere costretto a fare da scout bisogna cambiare le cose in modo che il gruppo possa procedere senza il ruolo dello scout io sto parlando sempre usando i nomi delle classi del classico Dungeons & Dragons a seconda della versione del d20 system che state usando queste classi potevano avere nomi diversi o gli stessi nomi e capacità leggermente diversi se parliamo del d20 system di star wars sia i nomi che le abilità sono molto differenti ma scendere nel dettaglio di ogni possibile incarnazione va al di là degli scopi di questo video per quanto riguarda il discorso del grado di sfida limitatevi a tenere sempre presente che non tutti i party che avrete a che fare non tutti i party in cui dovrete giocare siano in grado di ricoprire tutti i ruoli sia per limitazioni pratiche sia per volontà dei giocatori questo ovviamente va a influire sul numero sulla quantità delle risorse che il party deve consumare per superare un determinato incontro anche su quanto l'incontro per loro sia difficile ad esempio un gruppo formato da due guerrieri e due chierici probabilmente supererà molto rapidamente molto facilmente qualsiasi incontro basato sul puro combattimento però potrebbe trovare molto difficile superare ostacoli ambientali come come le trappole ma anche solo un burrone che sbararò la strada potrebbe essere un ostacolo che deve essere valutato molto bene in questi casi non potete risolvere la cosa semplicemente applicando la matematica dovete applicare caso per caso dei modificatori andare per tentativi fino a quando non riuscirete a calcolare a spanne un modificatore generale da applicare agli incontri in base al rendimento del party cioè un bonus o un malus da assegnare al grado di sfida in base al singolo incontro che i giocatori dovranno affrontare no purtroppo non esiste un modo per risolverla facilmente questa e ovviamente evitare sempre di mettere il gruppo di fronte a un qualche genere di impresa che ovviamente non è in grado di superare se il gruppo non ha un ladro evitate di inserire nella quest delle trappole che possano essere disinnescate solo con le abilità speciali del ladro allo stesso modo se nessuno del gruppo è un incantatore arcano evitate di metterli in situazioni in cui servano specifiche conoscenze arcane o specifici incantesimi arcani per poter proseguire per quanto riguarda i combattimenti partite con grado di sfida più bassi e andate progressivamente ad aumentare fino a quando non riuscite a trovare un livello di potere che i vostri giocatori sono comodi ad andare ad affrontare a furia dei tentativi riuscirete a trovare quali sono le combinazioni di mostri migliori e quali sono quelle da evitare e quanto più o meno il grado di sfida deve essere più alto più basso per quello specifico gruppo se per esempio vi accorgete che il vostro gruppo ha enormi difficoltà quando vengono prese di imboscata ma se hanno la possibilità di fare uno scontro frontale alle loro condizioni piallano qualsiasi cosa molto facilmente applicate magari un malus al grado di sfida per gli incontri frontali e un bonus quando loro sono prese in imboscata ma solo al fine del numero di incontri che avete per formare una quest non andate a aumentare o diminuire effettivamente le creature nell'incontro per dirla semplice diciamo che il gruppo deve affrontare quattro orchi barbari complessivamente un grado di sfida 4 bene se questi quattro orchi barbari si piazzano in mezzo a una strada la sbarrano e aspettano che il gruppo gli arrivi in faccia il classico incontro frontale li considerate un grado di sfida 3 per quanto riguarda calcolare quanti incontri un gruppo può fare tra un riposo e l'altro se invece questi orchi si nascondono e poi assaltano il gruppo alle spalle verranno considerati un grado di sfida 5 nonostante il loro tesoro e il loro effettivo grado di sfida rimanga sempre 4 questo tipo di modificatori ad hoc non deve essere considerato solo per quei gruppi che sono effettivamente sbilanciati in un senso a discapito di un altro ma anche per quei gruppi che sono effettivamente stati creati per essere il più bilanciati possibili ma per varie combinazioni di abilità situazioni bravura dei giocatori riescono a essere molto più efficienti in alcuni campi rispetto ad altri per esempio un gruppo che se sia concentrato sullo stealth sul nascondersi infiltrarsi e non farsi vedere potrebbe trovare determinati tipi di missioni molto più facili da superare o al contrario un gruppo in cui nessuno abbia speso gradi in abilità sociali non ci sia neanche qualcuno che abbia un valore di carisma particolarmente elevato potrebbe trovare anche il più banale degli incontri sociali estremamente difficile e macchinoso a superare questi modificatori non devono essere incisi nella pietra naturalmente potrebbero cambiare nel corso nell'evolversi della quest la composizione del gruppo potrebbe cambiare portando a essere efficienti in nuove aree meno efficienti in altre o semplicemente i giocatori andando avanti col gioco impratichendosi riescono a superare delle difficoltà che avevano compensarle quindi tornare a essere efficienti o diventare finalmente efficienti in cose in cui prima non riuscivano andare avanti diciamo che per ora possiamo chiudere qui il discorso sul grado di sfida ma ovviamente non il discorso sugli incontri all'interno del d20 system gli incontri sono l'ottanta per cento del lavoro che un master deve preparare ripartiremo a fine mese agli inizi febbraio devo vedere andando a vedere come effettivamente preparare gli incontri come costruire i mostri e anche come modificarli in base alla situazione fino ad allora come sempre se avete domande o dubbi o perplessità scriveteli nei commenti qua sotto spero di aver risposto anche ad alcuni commenti che sono già arrivati sui video precedenti su come fare quando il grado di sfida non può essere calcolato perfettamente voglio sapere anche da voi come voi modificate il grado di sfida se usate il d20 system o come lo modifichereste come il vostro master modifica le cose se non siete dei master se il like e condividetelo che aiuta a crescere il canale se non volete perdervi i prossimi video schiacciate sul tasto della campanella io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video